Il nuovo codice degli appalti, tradizione giuridica e innovazione, l'amministrazione pubblica nella prospettiva del cambiamento, questi temi del convegno nazionale ospitato nelle giornate di venerdì e sabato al Tardilecce. L'attenzione per la normativa sugli appalti e sulla tutela è importantissima e io torno a quell'argomento che a me è molto caro perché il motivo principale di questo tentativo del governo di rifondare tutta la disciplina della materia è legato oltre che all'esigenza di adeguamento alla normativa europea, che non è cosa semplice, è legato a una seconda ragione non meno importante che quella della prevenzione dei fenomeni, del contrasto ai fenomeni di corruzione. Nel settore degli appalti è molto importante e molto importante ancora di più secondo me in zone del territorio nazionale interessate da questioni di criminalità organizzata. Temi apparentemente lontani e troppo spesso considerati di nicchie per soli esperti ma che vincono sul fronte prevenzione, soprattutto laddove le infiltrazioni mafiose e la criminalità minano il futuro del mondo imprenditoriale. Quando noi discutiamo di questioni tecniche sul codice degli appalti non è che ci stiamo trastullando con questioni che apparentemente sono soltanto giuridiche, ma deve essere chiaro che si addimira una ottimizzazione della funzionalità del nuovo sistema, ma cosa non facile per una serie di criticità che ci sono nelle nuove leggi, una serie di zone d'ombra. Insomma noi siamo abituati a pensare male qualche volta, poi dopo ci pentiamo di non aver pensato peggio. Le zone d'ombra o gli spazi di discrezionità che vengono lasciati da questa nuova normativa mettono in dubbio la sua stessa idoneità a risolvere o prevenire o contrastare quei mali alla cui funzione era preordinata.